Se mi permettete una espressione ridente, il vitellonismo. Avete visto voi vitelli quando camminano sull'asfalto che non si ritrovano o barcollano? Ho visto un atteggiamento vitellonistico, disinteressato, come degli animali che guardano dall'altra parte. Mi dispiace dire questo, ma la comunicazione vuole anche colpire l'ascolto. Qui c'erano 35 milioni di euro, qui c'è un'emergenza, qui c'è il bisogno della città di riconiugare la capacità di fare cultura, qui e all'università. Un rettore straordinario suggerì ad una regione volenterosa di rendere bersaglio dei fondi del masterplan anche l'ex manicomio, che tanto ruolo ha avuto nella storia di questa città, di questa provincia e di questa regione. Nell'Ottocento era la più grande azienda, anche dal punto di vista economico. Vederla ridotta ad un cumulo di mattoni che raccontano storie e vicende di polvere è francamente un dispetto, soprattutto quando le risorse c'erano. Si trattava di assistere l'università come soggetto dedicato, con la capacità che ha la regione di fornire assistenza tecnica, amministrativa. Le regioni non sono la controparte delle università, le regioni non sono la controparte di una città. Quando ci sono le risorse, se la risorsa perde tempo ad essere fruttuosa, perde capacità realizzativa, e un cardinale autorevole come il cardinale Martini avrebbe parlato di immoralità, si è immorali quando le risorse sono ghiacciate e non producono cantieri, che portano con sé comodità e opportunità a città. Teramo poi dovrà aiutare tutto l'Abruzzo a farci fidanzare con le Marche, perché noi prima o poi dovremo fare un'alleanza con le Marche, altro che l'autonomia differenziata che toglie un miliardo di euro l'anno agli abruzzesi. Noi dobbiamo allearci con una cooperazione rafforzata con le regioni vicine per rispondere alle grandi domande dei nostri territori, la difesa del mare blu, l'approvvigionamento energetico, la risposta alla domanda di salute, collaborando e cooperando, ma anche le università potranno collaborare. Allora ritrovare luoghi carichi di significato come questo, significa avere dei medaglioni per la grande alleanza competitiva che noi dobbiamo fare. Non è possibile registrare il disinteresse della regione. Noi abbiamo dato 840 milioni di euro alla provincia di Teramo per fare in modo che recuperasse la sua velocità di funzionamento. La regione che viene a organizzare dispetti qui, solo perché qui c'è un sindaco di centro-sinistra, un'amministrazione di centro-sinistra, una provincia orientata al centro-sinistra, solo per cui si sono avuti i natali lavorativi per il rettore D'Amico, è merito quanto a ruolo all'università, ma è indimenticabile per il grande lavoro che ha fatto. Tutto questo a mio avviso ha dell'immorale che noi dobbiamo risolvere. Servono 35 milioni di euro. Non braccialetti e collanine che sono i doni che ha distribuito il Consiglio regionale negli ultimi 11 mesi per provare a catturare il consenso dei cittadini senza dimostrare i risultati raggiunti. Si chiamerebbe nel 900 corruzione elettorale.